Ciao, sono Fabio Prenti, studenti vincente, qui come me c'è anche a Nives Volantini, così vediamo se riusciamo in due a far passare questo importante messaggio. Allora, comincio col chiederti che cos'è il Master Day, di cosa si tratta? Il Master Day è un evento studiato per studenti che hanno avuto un anno abbastanza difficoltoso, sto parlando di chi è stato bocciato, di chi è stato rimandato, o degli studenti universitari che fanno fatica a far decollare il loro percorso di studio. È un'offerta speciale, giusto? Sì, si tratta di un'offerta speciale ad un prezzo davvero vantaggioso, tre ore di formazione più il mio libro, Se è Intolerante allo studio, trova il tuo stile con i sei passi di studente vincente, a soli 47 euro. Per entrare un pochino più nello specifico, che tipo di esperienza ha? Si tratta di un'esperienza dal vivo, la persona viene e riesce in tre ore a capire come rimettere in ordine la sua gestione del tempo, come pianificare gli obiettivi, come riguardare bene quali sono gli obiettivi che vuole ottenere dal suo piano di studi e quindi capire anche poi come fare per strutturare un sistema di studio, quindi appunti, ripassi, tutto quello che riguarda il suo sistema di studio, una volta per tutte. E dove si svolge? Una piccola struttura che contiene al massimo una ventina di persone, quindi un lavoro molto intimo, molto sulla persona, in modo che io possa lavorare su tutti i partecipanti. E il periodo invece? Il periodo credo che sia il periodo giusto, mentre tutti pensano ad andare in vacanza o continuano a pensare che devono prepararsi per gli esami di riparazione, naturalmente arriviano il 16 di agosto, dopo ferragosto, perché è un po' questo è l'interno che succede. Io invece credo che sia perfetto questo periodo, forse anche un pochino prima, come siamo ancora entro la prima metà di luglio, sia un momento giusto per cominciare a vedere che cosa voglio fare, una volta per tutte, per costruirmi un sistema di studio che sia in linea con quelle che sono le mie esigenze, non di studente, di studenti universitari. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ti aspetto.